Il Museo a cielo aperto della Cartapesta, firmato, carte e maschere, il Carnevale si racconta d'estate, voluto e realizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano, continua ad attrarre turisti e visitatori nel centro della città. La cittadina a sud di Bari, famosa per il suo antico Carnevale, per l'estate 2022 ha infatti messo in mostra la sua arte, la Cartapesta, con sette maestose sculture che fino al 30 settembre vestiranno e coloreranno la città. Una mostra in stile ecomuseo, sempre fruibile e accessibile, senza limiti di tempo e orario. La mostra è anche interattiva, grazie a un QR code che consente di accedere a contenuti di approfondimento su ogni opera. Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, con racconti di carta, l'esposizione di questa estate ha l'obiettivo di raccontare il Carnevale di Putignano. L'iniziativa si rivela quindi un omaggio all'arte putignanese, alle sue tradizioni e al suo evento identitario, che tornerà finalmente dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, per l'edizione numero 629, sfilata il 5, 12, 19 e 21 febbraio del 2023. Fra le sculture di maggior pregio, c'è una riproduzione dedicata al Santo Protettore di Putignano, Santo Stefano, a cui si deve l'origine del Carnevale locale. Alta oltre 13 metri e interattiva, perché abbracciando il Santo si accende il suo cuore. L'opera, dal titolo di Fanti, Santi e Stelle Filanti, è firmata dal maestro Deni Bianco. In mostra, nel centro della città, anche una ballerina in poltrona, una sirena ammaliante e ammaliatrice, il pagliaccio che regala palloncini, il cigno nero e la fanciulla mascherata.